Riduce dal successo dell'ultimo disco di inediti Motherfolk, Davide Van der Froos torna nei teatri col suo nuovo Mother Tour, 16 date che toccano i più importanti teatri d'Italia, tra cui anche il Giuditta Pasta di Saronno, che lo ospiterà domani, giovedì 24 marzo alle 21. Motherfolk, racconta l'artista, vuole mettersi finalmente in viaggio dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che stavolta non è solo geografico ed emotivo, ma molto simile a un sogno, illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo davanti a tutti voi che avete aspettato finora questo momento, con affetto e pazienza. Ma per il teatro di Saronno la performance dell'artista lecchese farà anche da prelibato antipasto un doppio appuntamento atteso nel weekend. Sabato sera e domenica pomeriggio due volti noti del cinema, della tv e del paroscenio italiano come Massimo D'Apporto e Antonello Fassari saranno infatti in scena protagonisti dè il delitto di via dell'orsina. Due uomini si risvegliano nello stesso letto con le mani sporche e le tasche piene di carbone, sicuri di essere coinvolti nell'omicidio di una carbonaia. Uno è ricco, nobile e elegante, l'altro rozzo, volgare e proletario. I due devono fare i conti con quello che credono di aver fatto. L'opera, originariamente ambientata nella Francia di fino a 800, è stata ricontestualizzata nell'Italia prefascista dall'adattamento di André Ruth Shamma che ne ha curato anche la regia.